L'anno scorso i rappresentanti delle istituzioni cremonesi sono tornati trionfanti da un blitz romano ricevuti dal neoministro Paola De Micheli per dichiarare che non c'erano più ostacoli alla realizzazione dell'autostrada Cremona-Mantova. Il cambio al vertice della provincia da Rosolino Azzali a Mirko Signoroni non ha modificato la strategia mentre il sindaco di Cremona Gianluca Ganimberti ha ribadito in consiglio comunale che non ci sono alternative all'autostrada. Sei mesi dopo però è trapelato che la regione ha revocato a Stradivari, a società presieduta da Carlo Vezzini, l'incarico di progettare il famoso tratto mancante lungo 8 chilometri per affidarlo ad una società esterna. E così nel piano economico finanziario presentato da Stradivaria il progetto degli 8 chilometri che già è stato tolto dalla Tirreno Brennero non c'è. Il consigliere regionale dei 5 stelle Marco degli Angeli ha quindi presentato un'interrogazione per chiedere con un tono del tutto neutro se dopo 20 anni di discussioni la regione è in grado di fare l'autostrada o no ponendo fine alla vicenda tanto contestata da ambientalisti, associazioni e comuni che invece puntano sulla riqualificazione della provinciale 10 e sulla revoca della concessione a Stradivaria che potrebbe però impugnare un'eventuale scelta drastica da parte del Pirellone. Anche questo progetto però trova molti ostacoli. L'arteria infatti non è ancora stata trasferita dalla provincia ad Anas malgrado l'avvio della procedura da parte dell'ex ministero Toninelli due anni fa. Ancora oggi non si è scelto tra la riqualificazione della provinciale e il che la nuova autostrada non serve evitando così una spesa pubblica di un miliardo se non di più che non ha mai trovato finanziamenti.